Le cose più belle della vita non si trovano sotto l'albero, ma si trovano nelle persone che ci sono accanto. Con questo mio augurio di buon Natale a tutti voi, vi voglio ringraziare che siete sempre presenti nel mio canale con messaggi, auguri e questo mi rende davvero felice. Vi auguro a tutti quanti un felice, gioioso Natale insieme ai vostri cari. Buon Natale!